La pubblica assistenza della Spezia e il Soccorso Alpino collaborano da anni, ma è arrivato il momento per rafforzare questo legame. Questa mattina nella sede di Via Carducci è stato presentato un accordo, un accordo che di fatto permette uno scambio sia di mezzi che di persone per aumentare e migliorare i servizi di entrambe le associazioni. Noi li forniamo ai locali e loro ci forniscono praticamente il supporto ai volontari facendogli i corsi. È una cosa importante perché hanno delle esperienze molto più avanzate delle nostre, nel senso che loro sono abituati a fare interventi in zone impervie abbastanza complicati. Anche quando c'è stata l'alluvione in Emilia Romagna, abbiamo prestato un mezzo che avevano bisogno, abbiamo dato un altro ufficio, abbiamo regalato un'ambulanza che loro ci faranno, la centrale radio, quindi è una collaborazione molto importante perché lo scopo loro è come il nostro, quello di aiutare le persone che hanno bisogno. Assieme alla pubblica assistenza avete firmato un accordo che era già in essere, però è stato strutturato meglio. Su quali punti c'è un vero e proprio scambio? Pensiamo ad esempio allo sportello con lo psicologo che verrà messo a disposizione anche dei volontari della pubblica assistenza. Sì, questo nuovo accordo è stato leggermente implementato con delle cose più specifiche. Una, esatto, è quella di mettere a disposizione una figura che abbiamo all'interno del Soccorso Alpino, che è lo psicologo, per fare uno screening dei volontari quando fanno la domanda per entrare nella pubblica assistenza. L'altra attività che gli diamo come supporto è una parte di formazione sanitaria e tecnica per quello che ci riguarda durante i corsi di formazione con un nostro medico che presiede la commissione d'esame a fine attività. L'accordo è già attivo da tempo, infatti durante l'emergenza in Emilia Romagna a causa dell'alluvione il Soccorso Alpino è partito con dei mezzi, con un defender, messo a disposizione dalla pubblica assistenza della Spezia. L'accordo tra il Soccorso Alpino e la pubblica assistenza di Spezia è stato molto proficuo su questi scenari. Siamo intervenuti su degli scenari alluvionali e quindi ci servivano dei mezzi in grado di raggiungere delle località isolate, di superare dei guadi e quindi questa collaborazione che già prosegue da anni ci ha permesso di intervenire su questi scenari con il nostro personale e con i mezzi della pubblica assistenza. Da volontario, che cosa è rimasto di quell'esperienza? Rimane il piacere di aver potuto dare un piccolo contributo per portare un po' di sollievo a queste popolazioni.